Quindi diciamo che questa mappa è giusta Però fa schifo questo posto Mamma mia, tutto montagnè Cioè non puoi andare dritto Perché quello non apre nemmeno alle 4 Non poteva aprire alle 4 No, alle 6, alle 5, alle 10 Poi un altro No, forse è quel di prima E uccidilo, no? No, no Perché no, no, c'è la pistola Sì, ma io sto ucciso adesso Ah Ma perché la notte è chiuso sti trader di merda Tad, non gli fanno niente io zio Cioè, non so che hanno fatto che il trader è chiuso Eh, vabbè, per farlo sembrare una cosa un po' più realistica Realistica Eh, mamma, un altro orso Eh, vedi, quando non ce ne sono, quando ce ne sono troppi Ma se non fossi caduto in quel cazzo di coso Non ci sono, non ci sono, non ci sono Non ci sono, non ci sono, non ci sono Non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono Siamo ancora abbastanza forti No, già, quella via Io mostro, sono un gatto, sono un po' più realistica Allora il server, dice, l'ha un po' presa la cogliona Perché siamo in due forse, no? No, come, non ti ricordi Non ci sono, non ci sono, non ci sono Non ci sono, non ci sono, non ci sono, non ci sono Non ci sono, non ci sono, non ci sono Non ci sono, non ci sono, non ci sono Una montagna del cazzo thema, da che sono arrivato, sono arrivato Da fa' la scalata con queste montagnette di merda che ci sono e poi tu devi dire pure che non è nemmeno sicuro che la troviamo è finito ti volevo dare un po' e spegni la luce spegni la luce spreca le munizioni ma che spegni e rompe i coglioni sulle luci che non si possono consumare ah e beh non è come ho pensato a spegni la batteria ti ricordi? e tu lo sai qua c'è il luce ma che io ce l'ho già la palla quindi iniziamo a meno male calato no da due ore a 36 minuti ma è quel di secco d'arte 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 auguri ah finalmente l'è finita questa cazzo di dislocature di mer beh l'abrazione non se ne va con la crema da luce com'è no? no con la benda del fondo soccorso devi entrare e lo usa? si si sono prevestiti e vabbè ture 24 minuti 40 minuti beh andiamo a scrivere e andiamo a scrivere e andiamo a scrivere e magari ti togli da avanti posso passare scusi allora iniziamo faccio io il confine così tu capisci dove devi scavare togiti da qui sì zio ma è vero c'è il confine in che senso? il perimetro ah ok inizio scavare lì ok ma di quanto altro? tu per mo fai cosi di un livello puoi ecco la parte bella della base che è piccola e che non è che dobbiamo scavare assai per tutti i stanchi giustamente il poverino aspetta zitto zitto che ho sentito qualcuno ho sentito lo spider zombie forse tu è l'allucinazione ma no ti affannare il culo va ma insomma che la faccio io all'alfa prossima posso vedere che è prossima sì sì voglio proprio vedere eh la prossima volta la faccio io decido io però la devi fare tu nella partita mia perché è molto comodo che tu giochi offline mentre io non ci sono capito? è qua che ho giocato offline nooo e vabbè qui l'ho fatta io no no io dico con il poco tempo che hai che hai voglio vedere la base che fai cioè a me non è che mi fa schifo eh vabbè tu pazchi non mi scrypsi lì chiudi ma perchè ti c Curry è stato fatto prendere la base Tu mi ammazzi No, te lo ricostruisci Si Ma sai che cosa mi sento adesso di essere? Mi sento di essere l'arcire oppure il picchiere quello di Crusader che si nascava il fossato Eh, però lui già magicamente usciva l'arco Eh Oh Oh però la vado porto tutto il tuo porto ma quando deve espo fatto ancora devi fare la finire di far tutto il giro E poi, no, perché dobbiamo arrivare fino a qui Quando sei arrivato qui, inizia a fare il secondo piano, diciamo A scendere Ma se qui abbiamo fatto le cose al massimo non la troviamo Capo, capace che quando non serve la troviamo Guarda, vai, io se l'ho appartito che abbiamo fatto la settimana notte insieme Sai come ce ne arriva? Buttalo, cioè non sapere mai come usare Inizia a fare già? Sì, sì, vai di qui e vai a fare il secondo piano Tre livelli deve essere Ti faccio vedere che non servirà più la trivela No, la trivela servirà comunque per prendere il ferro e le altre cose Ok capo C'è una stamina questa da far paura Allora, io adesso faccio una bella cosa Inizia a fare i spudoni Qua ti metti i spudoni Non ti preoccupare, aspetta Faccio una cosa che serve di più Così ammazziamo il tempo Che bello, io lavorare l'ho a cazzeggiare Sì, a cazzeggiare Ma io non ho scavato fino a ora Due, due, tre scave Due, tre buche fatte Oh, 2500 di clay già Mamma mia, buonissimi Che serve per fare i cose Allora Che è crollato? Non sta crollando niente, sono io No Perché sta succedendo? Come si gira? Come si gira? Addio Addio Amici Addio 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 Che Ah tu? Che cazzo è? purpose Allora questa didn't do Nazis Sono delle mie case sopra è usata Due barre di merda Di ferro 200 di ferro Eccola Samara Dov'è cazzo sta? E' morto L'anguncia è qua Però non vuoi che si passa in link Il rantolo Della morte Poi c'ho Dov'è un'altra Senti io non sai che cosa Ho pensato nella mia mente malata Uno zombie Dico uno zombie Lo volevo ingabbiare Ma lo distrugge Eh si lo distrugge Ma se tu lo lasci di burro La gabbia Quello lo distrugge Ci mette un bordello Perché il danno degli zombie E' sistemato a proprio il minimo Però se tu gli fai una cosa di pietra O con le sbarre di ferro Quello domani riesce a distruggerlo Eh vabbè Ma che cazzo serve? Eh vabbè Così una chicca Giusto per dire Fallo Portalo tu Inizia a farlo già Si inizia a farlo Lascio tutto Per fare questa cazzata Questa cazzata si fa No Quando hai fatto la tua? Eh si la faccio Una cosa giusto per il canal Perché non penso che nessuno L'abbia mai fatto Curiosità Dimmi E' davanti all'entrata Dimmi Dimmi Adesso si lascia Le scale Niente Lascia così Perché Devo Voglio vedere Se si può fare una cosa